Spazio dedicato alla prova di Coppa del Mondo di sci alpinismo che è andata in scena ieri e l'altro ieri tra Albo Zaggia e Caspoggio, un grande spettacolo eccezionale. La vittoria di Kinnan, Yannick Spell! E' su queste immagini che apriamo quest'oggi il servizio dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpinismo che si è svolto da Albo Zaggia. Il campionissimo Kylian Cornet-Burgada che trascina sul gradino più alto del podio l'amico rivale Michele Boscacci, un gesto di sportività e di fair play incredibile che fa di questo campione spagnolo un personaggio dell'umanità speciale. Un gesto fatto con il cuore ma anche con un pizzico di provocazione nei confronti della giuria della Federazione Internazionale che al termine della gara individuale di Coppa del Mondo di sabato ad Albo Zaggia non ha potuto accettare la loro vittoria ex equo. Una scelta presa da entrambi gli atleti dettata forse, come ammesso dallo stesso Burgada, da un fondo ghiacciato e pericoloso trovato sull'ultimo tratto del percorso che minava la loro incolumità, optando per un arrivo a braccetto. Insomma, una vittoria per due. Mano ai microchip e dal fotofinish, ma come giusto che sia, visto il carattere di gara di Coppa del Mondo, il successo è andato al campione spagnolo Kylian Giorneburgada, una decisione che però ha lasciato la mano in bocca al campione spagnolo, rappresentante mondiale degli atleti dello scialpinismo, il quale forse però ha voluto lanciare una frecciatina alla Federazione Internazionale per un format mondiale che lui non gradisce. È stata una bella gara, una bella sfida fino alla fine con Michele, poi sono un po' deluso con la decisione dell'ISMF, poi noi siamo arrivati insieme l'ultimo tratto per sicurezza perché era molto pericoloso, abbiamo deciso di andare giù insieme, poi tagliare il traguardo mano a mano. Poi l'ISMF hanno detto che io ho passato il C prima, ma comunque io credo che hanno fatto il fair play sportivo e che vinciamo i due e poi stanno prendendo una direzione che io non credo che bella per lo sport, ma così è e vedranno loro cosa fanno. Sì, innanzitutto voglio ringraziare Kilian per il bellissimo gesto perché se noi dobbiamo guardare quello che dice il chip e il cronometro io sono arrivato secondo, quindi Kilian è un campione anche lì, ha voluto che salissi con lui sul primo gradino e per me questo è un gesto veramente bello. Questo fatto e l'infortunio della campionessa francese Favra sono stati gli unici nei di un weekend di scialpinismo mondiale indimenticabile per la gente d'Albosaggia, campioni in termini organizzativi e di umanità e naturalmente indimenticabile anche per i protagonisti, molti di loro i nostri campioni valtellinesi. Ieri il grande spettacolo della gara sprint tracciata a Caspoggio, una vera e propria torcida ad accogliere i campioni dello schiavo mondiale impegnati su di un tracciato da brivido con parti tecniche e di forza mixate a resistenza allo sforzo davvero incredibili, con la seconda parte tutta in discesa dove il rivale più pericoloso non erano tanti salti e le paraboliche ma l'acido lattico. Una mattinata partite dalle prove individuali di qualificazione con i migliori 30 tempi a staccare il pass dei quarti di finale per la fascia senior e le semifinali per i giovani. Ad esaltare il gran bel pubblico presente la stella dello ciclo e balta valtellina Nicolo Canclini in palla sin dalla qualifica padrone indiscusso della semifinale e re della finale. Un ritmo sostenuto in salita e una discesa davvero fuori classe gli hanno permesso di tenere dietro lo svizzero Corté e l'altro azzurro Davide Magnini. Splendido vincitore sabato nell'individuale. Nei cinque anche i francesi Bella Bouvier e De Quy. Nicolo Canclini un weekend indimenticabile, la tua prima vittoria in Coppa del Mondo, terzo ieri, che dire? Sì, è stato fantastico, una grande emozione soprattutto perché qua quattro passi da casa e il tifo era spettacolare, non poteva andare meglio di così. Ieri era molto tecnica, ho provato a tenere il mio compagno Magnini nella prima salita ma poi è scappato, ho fatto la gara col francese e alla fine dopo una caduta ho chiuso terzo. Oggi invece una buona qualifica e nella finale ho dato tutto e è andata bene. Un weekend qui in Valtellina veramente al top, tanta gente, tanto tifo, tanto calore. Eh sì, veramente forse la tappa di Coppa del Mondo più bella che abbia mai vissuto. Nella gara femminile, peccato per un problema tecnico alla campionessa del mondo della categoria, Giulia Compagnoni. Un gap tecnico che l'ha estromessa dalla corsa alle medaglie. In fase di premiazioni a riecheggiare la marsigliese con il sigillo di Adel Millot davanti all'ostriaca Inna Fortammer e alla francese Lena Bonnell. A ridosso del podio le azzurre Giulia Compagnoni e Giulia Murada, rispettivamente quarta e quinta. Giulia Compagnoni, un weekend memorabile, questo è in Valtellina. Vittoria strepitosa ieri, oggi in un quarto posto per davvero pochissimo, insomma che ricordi ti porti a casa? Beh, porto a casa tantissimi ricordi, tantissime emozioni, un tifo da paura qua in Albosaggia. Anche qua a Caspoggio oggi, ieri è andata bene, oggi purtroppo ho perso lo sci, però la grinta con cui l'ho rimesso e sono riuscita anche a recuperare qualche posizione, sono felicissima comunque, fa parte del gioco e va bene così. Dove era il tratto più duro quest'oggi del tracciato? Eh, più che altro le inversioni, i rombi, dove era un po' ghiacciata e si faceva fatica, anche perché si scivolava parecchio. Il resto invece, devo dire che io faccio fatica in discesa, però ho detto tutti che era bella la discesa, quindi... Innanzitutto sono molto contenta di aver fatto la gara in casa, perché lo aspettavo da un po' di correre una Coppa del Mondo, specialmente in casa. Sono contenta, anche se penso che si poteva fare qualcosina di più, perché l'individual di ieri è andata bene, però in salita non ero molto in forma e anche la sprint di oggi, invece che stavo meglio, mi ha fatto un po' di errori stupidi qua e là e quindi è andata come è andata. Però sono contenta e sono felice di fare parte di una squadra che è riuscita a organizzare così bene questo evento, nonostante le condizioni, perché si si è accorti che la neve era quel che era e quindi sono contenta e fiera della mia squadra. E nemmeno il tempo di festeggiare il giovane Canclini che in pista si scatenavano le senior femminili. Una competizione che in finale ha premiato Claudia Galicia Cotrina. Per la forte atleta spagnola un primo meritatissimo oro sprint davanti alla regina dello Schialp Letizia Roux e all'altra iberica Marta Garcia Ferres. Quinta Martina Valmassoi. È un giorno molto speciale, mi sono trovata molto bene, ho avuto delle ottime sensazioni sin dall'inizio. È la mia prima vittoria in Coppa del Mondo, quindi sono molto contenta. Programma gara interrotto purtroppo per soccorrere la francese Valentin Favre, caduta durante la finale procurandosi la rottura della tibia. Attimi di suspense terminati con il saluto alla sfortunata campionessa francese che lasciava il parterre in ambulanza tra gli applausi di un bel pubblico a dir poco sportivo. E quindi l'attesa finale maschile con campanacci in azione e tricolori sventolanti per i due beniamini valtellinese Michele Boscacci ed il campione del mondo sprint Robert Antonioli. Allo start, oltre ai due campioni azzurri, uno spagnolo, un tedesco e due svizzeri, ovvero Oriol Cardona-Colla, Anton Palzer, Janik Elque e Ivan Arnold. Ivan Arnold parte a tutta, provando a sgranare il gruppo. Lo svizzero tiene la testa della corsa nel tratto a inversioni, su quello a piedi e pure in discesa. Taglia per primo il traguardo e si presta alla classica foto di rito. Ad attendere però la doccia fredda di un aggravio cronometrico per una irregolarità in zona cambio. Classifica alla mano, l'oro di giornata va quindi sulle spalle del tedesco Anton Palzer. E' stato un fantastico weekend per me. E' stato un fantastico weekend per me. Ieri ho chiuso prima davanti al fortissimo Kilian e Michele Boscacci. E' stata una grande partenza ed oggi, malgrado gambe stanchissime da ieri, devo dire che dalle qualificazioni e quarti alle semi mi sono sempre sentito meglio. Poi in finale mi sono detto, stai tranquillo, ce la puoi fare, per la vittoria o per il podio. All'arrivo ero secondo alle spalle di Ivan Arnold, poi ha avuto problemi in zona cambio e così è stato squalificato. Mi spiace per lui, ma ora sono io il vincitore. E' fantastico perché ho potuto guadagnare molti punti per la classifica generale e sono felice. Come sono state le prove di oggi? Era più importante avere testa o gambe? Penso che le sprint siano speciali, molto duro. Se stai bene devi affrontare quattro gare in poche ore. E' molto difficile per la testa, devi spingere sempre al massimo in ogni gara. E ovviamente devi essere supportato anche dalle gambe. Credo sia un bel mix. Piazza d'onore per il matatore Robert Antonioli, che sul tecnico spettacolare tracciato di Caspoggio è stato letteralmente osannato dal numeroso calorosissimo pubblico. A traguardo hai detto ci voleva più cuore, più testa che gambe oggi dopo la fatica di ieri. Insomma una seconda piazza guadagnata, bella lì. Sì, sicuramente adesso è il recovery time, quindi in Abiletta andiamo a avercela. Sono contento di aver fatto podio, non pensavo perché i giovani adesso vanno veramente forti in stiforma di gara. Speriamo nelle prossime di vincere. Comunque sono soddisfatto per il secondo posto, anche se purtroppo io come posizione ero terzo. Solo che per una penalità data al primo arrivato all'arrivo, sto squalificato e retrocesso in classifica. Quindi un secondo posto, non tutto mio, io ho fatto il terzo, quindi comunque è una medaglia che mi piace. Meglio sempre meglio l'argento che il bronzo. Sei sempre molto sportivo, ma i regalamenti vanno anche osservati, quindi se la giuria è deciso così ci sta un tracciato difficilissimo. Sicuramente è un tracciato difficile, molto tecnico e molto veloce. Anche in discesa veramente tecnico, percorso tipo da snowboard cross, quindi a me piaceva. C'erano quattro salti e noi ci divertivamo un po' in discesa. Comunque è molto tecnico la salita, con un pezzo a piedi abbastanza lungo, che se arrivavi stanco non riuscivi ad arrivare in cima con un margine. Quindi la sprint è così, bisogna partire e dare tutto dall'inizio alla fine, perché se ti fermi un attimo, ti incanti un po' con la testa, arrivi dietro. Una bella atmosfera qua a Caspoggio, qua in Valtellina, dal Busaggia a Caspoggio. Sicuramente bella, perché si corre in casa, o più o meno vicino a casa, quindi tanta gente che ci conosce. Tanto tifo per noi italiani e quindi la motivazione e la gaseria c'è, quindi troppo bello. Non mancavano di certo le tue traglie. Sì, c'era qua tanta gente dall'Alforma, dalle traglie. Non male, bello, una bella emozione. Terzo il promettente Oriol Cardonacolla. A seguire Yannick Quee ed il retrocesso Arnold e poi Michele Boscacci. Anche lui penalizzato, ma comunque autore di una bella prova che lo proietta tra i sicuri protagonisti delle ormai prossime gare continentali. Al via nelle qualifiche, ma senza verità di classifica, visto il format di gara, anche Kilian Giorne Borgada. Una presenza che nel mondo dello scialpinismo per talento è paragonabile a quella di Valentino Rossi nel mondo della MotoGP. Ovviamente con le dovute proporzioni, visto l'impatto mediatico ed economico delle due discipline. Paragonabile invece sotto il profilo sportivo e della spettacolarità. Lo sprint, che non è una disciplina per me, troppo corta per me, ma sono molto soddisfatto perché la squadra spagnoli, tutti i miei, hanno fatto risultati. Da subito mai avevamo fatto un bel risultato in sprint. Poi oggi, bello, Claudia Galicia che vince, poi Marta Garcia, terza e Oriol Cardona, terzo anche. È una soddisfazione enorme. Sei un bel trascinatore ovviamente, la squadra ti segue, c'è? Eh, la squadra ha iniziato molto tempo fa con lavori da gente come Jordi Canals, come altra gente. Poi noi proviamo a motivare i giovani, ma adesso sono loro che ci motivano noi perché vanno molto forti. Ti è piaciuto la tracciata di oggi, ti è piaciuta l'atmosfera che hai trovato qui in Valtellina? Sì, sempre in Valtellina c'è un ambiente grandissimo, una passione per l'ossi alpinismo e c'è tanta gente che fa il tifo alla gare. Ieri era un percorso molto tecnico, bello in quota, poi oggi per essere un sprint, anche hanno fatto un lavoro incredibile per portare la neve e dichevamo adesso con tutti i coach che per percorso sprint e organizzazione questo sprint è il più bello che abbiamo visto mai. Un movimento valtellinese che è nascito da questa pazzesca centrifuga di emozioni e soddisfazioni sportive, quale migliore realtà internazionale? Un lavoro partito da lontano, grazie alla passione dei vari tecnici, gente e volontaria che si è presa a cuore il futuro sportivo e non solo di questi giovani campioni. Dove non vanno di certo dimenticate le prestazioni degli altri due giovani bormini, Pietro Canclini VII ed Andrea Prandi IX, tra gli junioris nell'individuale di sabato. Ieri nell'individuale o anche oggi nella sprint hanno fatto dei buoni risultati, sia i giovani che i seniori, davvero e soprattutto un plauso all'organizzazione perché hanno fatto davvero in condizioni difficili, hanno dato prova di quanto sono capaci per proporre delle gare di vero sci alpinismo. Vittorie ieri di Giulia Compagnoni e oggi di Nicolo Canclini, insomma questi giovani ci sono alla grande? Sì, direi che giovani promettenti che davvero ci fanno ben sperare, sono un bel ricambio generazionale e fra qualche anno andranno a prendere il posto di Robert che comunque è ancora giovane, ha ancora tante cose da dire. Le dediche di un campione affermato e di una giovane promessa, ormai diventata realtà, ne sono la dimostrazione. La dedica va allo Sciclubo Alta Valtellina perché come sempre sono partito da lì e quindi tanto nel merito che sono qua oggi sul secondo gradino del podio va anche a loro perché mi hanno sempre seguito e mi hanno portato ai vertici dello sci alpinismo mondiale. Nicolò sicuramente avrai una dedica per questa tua prima vittoria in Coppa del Mondo? Sì, una dedica speciale va sicuramente a Luca Dei Cassi, il nostro allenatore che è mancato quest'estate e che mi ha trasmesso la passione per lo sci alpinismo. E questa sera torniamo a parlare del grande successo sportivo della due giorni di Coppa del Mondo ISMF di sci alpinismo andata in scena sabato e domenica tra Albosaggia e Caspoggio. Un evento internazionale da successo mondiale, un'organizzazione orchestrata dallo staff della Polisportiva Albosaggia con gli uomini di Caspoggio coordinati da Lorenzo Pegorari e Giacomo Negrini. In questa intervista tutta la soddisfazione ed anche la commozione da parte di Franco Parolo, ex presidente della Polisportiva Albosaggia, il quale rappresenta sicuramente l'anima di questa associazione, da sempre cresciuta sulle gesta dei loro campioni, dello sci alpinismo e della corsa in montagna. Tu hai detto l'anima della Polisportiva. La Polisportiva vive di tante anime, di tante persone che si danno da fare, utilizzano il loro tempo personale, rubando tempo alle famiglie, al lavoro, chiedendo ferie, trascurando anche la loro casa ma per dare corpo, dare modo che questo sogno, questo sogno incredibile che in questi due giorni si è realizzato con una due giorni di Coppa del Mondo, gara lunga individuale e gara sprint, veramente fantastici, anche dette di tutti gli atleti, hanno dato modo che questo sogno si potesse realizzare. Quindi un grazie veramente a tutti i volontari che si sono prodigati per la buona riuscita dell'evento. Franco, in questo momento lei ha gli occhi lucidi e questa la dice lunga sul sentimento. Insomma, ma che cosa provate per questa disciplina, per i vostri campioni? Albosaggia è la patria dell'usci alpinismo. Albosaggia ha dato in Natale dei grandi campioni, ha dato in Natale due grandi campioni del passato e ha dato in Natale un grande campione del presente, quel Michele Boscacci che tagliando il traguardo assieme a Kilian, il mito dello scialpinismo, della corsa in montagna, ha regalato veramente ai Bosacci una grandissima giornata di sport. Quindi grazie a questi straordinari atleti che si confrontano sulle vette più ardite delle nostre montagne e grazie anche agli amici di Caspoggio che con la loro collaborazione e impegno ci hanno dato modo di tenere una sprint veramente fantastica. Ed il segreto di tale successo è sicuramente l'unione di tutta questa gente animata da un grande spirito di volontariato. Le tante persone che lavorano nell'ombra, che non si vedono, sono quelle che fanno la differenza. Noi ne abbiamo veramente tante, persone che non appaiono ma fanno, ci sono le chiami, puoi fidarti di loro. Questa è la forza della polisportiva, questa è anche la forza dello scialpinismo, uno sport che in montagna accomuna e non divide come può succedere in altre circostanze, ma lo sport accomuna. La montagna accomuna, ci si aiuta l'un l'altro e questo, credetemi, è veramente una cosa meravigliosa. Una grandissima, veramente, sono veramente commosso perché vedere qua in Arbosaggia tutti questi campioni, provenienti da tutte le parti del mondo, che ci erano bravi per come abbiamo realizzato, è stata veramente una cosa straordinaria. Contributo importante, quello economico sostenuto dal credito valtellinese, da sempre in prima linea nella sostenere lo sport. Grandissime emozioni perché questa trentesima edizione del Valtellino Orobie è stata veramente eccezionale, dalla mancanza di neve e dalle preoccupazioni è nato un binomio al Bosaggia-Caspoggio con le due gare fatte sabato qui sulle Orobie e questa mattina la gara di velocità, la gara sprint a Caspoggio, veramente fantastica. Lo sci alpinismo è un grande sport per conoscere la montagna e per far conoscere la nostra Valtellina e anche l'idea di mettere questo mega schermo in piazza Garibaldi a Sondrio è stata molto felice perché ha permesso a molte persone che non conoscono questo sport di apprezzare la bellezza della gara, della competizione delle nostre montagne. Il credito valtellinese è vicino allo sport in Valtellina e non solo ed è vicino soprattutto al mondo delle associazioni perché non dimentichiamoci che una gara come questa e come tante altre in tanti sport sono rese possibile dal grande lavoro dei volontari qui dalla Polisportiva al Bosaggia e del gruppo Alpini di al Bosaggia. Noi siamo vicini a questa realtà come banca di casa della Valtellina. Valori d'altri tempi in una disciplina così faticosa. È questo il concetto espresso da un uomo di sport quale Miro Fiordo. Sì, credo che questo sia una delle caratteristiche più belle dello sci alpinismo. C'è competizione, c'è tecnica evidentemente, ma c'è anche una modalità di stare insieme degli atleti, dei tecnici, con chi organizza le gare, che è un po' di altri tempi. C'è un cuore che si vede, un'amicizia molto forte che lega gli atleti di nazioni pur così diverse, così lontane. Quindi è un bello sport e naturalmente è uno sport per gente tosta e abbiamo qui proprio ad al Bosaggia una tradizione di atleti di Valenza Mondiale. Grazie.